Ciao amici, bentornati sul canale il giornalismo del cuore Cicogna in arrivo nella casa reale inglese, lei è in dolce attesa Arriva la lieta notizia che commuove i sudditi A spifferarlo è proprio lui, il piccolo della Royal Family Sudditi commossi ed emozionati Buckingham Palace in festa, finalmente torna il sereno nella casa reale inglese Arriva la lieta notizia che ha lasciato tutti senza parole, lei è in dolce attesa Che meravigliosa news I sudditi speravano che fosse incinta e finalmente il sogno si è avverato La famiglia reale è pronta ad allargarsi Buckingham Palace, gli ultimi mesi non sono stati semplici per la Royal Family più chiacchierata di Buckingham Palace ed intorni La regina Elisabetta purtroppo sta affrontando gravi problemi di salute I dolori alle articolazioni non le consentono di poter più prendere parte ad eventi ufficiali come un tempo Per non parlare poi del suo entourage formato da Carlo e Camilla, William e Kate, Harry e Meghan che danno sempre da parlare alla stampa Dopo un periodo però abbastanza turbolento, arriva ora una notizia davvero bellissima, lei con grande sorpresa di tutti, è pronta a diventare nuovamente mamma Spifferato ai 4 venti quello che sarebbe dovuto essere un segreto ancora per un po' Il piccolo di casa reale non trattiene la sua gioia e la condivide con il mondo In arrivo una principessina nella famiglia reale, il regno unito è in festa, lei è pronta ad allargare la famiglia di nuovo e a diventare ancora una volta mamma Protagonista della lieta news è Kate Middleton La moglie del principe William sarebbe, secondo alcune indiscrezioni che stanno infiammando i gossip inglesi, in attesa del suo quarto bimbo, o meglio, una bimba Kate Middleton, si mormora infatti che la duchessa di Cambridge sia incinta di una femminuccia a cui potrebbe essere dato il nome di Diana, in omaggio alla compianta principessa del Galles Ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Buckingham Palace, nessun comunicato che annunci la notizia tanto attesa ma sembra che giorno dopo giorno, le conferme di una gravidanza siano sempre più certe Secondo alcuni rumors, a spifferare il dolce segreto è stato il piccolo di casa Cambridge, il principino Louis Il terzo genito di William e Kate, Monello e Birichino, avrebbe ascoltato una conversazione privata dei suoi genitori, intenti a preparare le valigie per trasferirsi con la famiglia ad Adelaide Cottage per state più vicino alla regina Elisabetta Il piccolo non avrebbe mantenuto il segreto in occasione di un evento pubblico al quale ha preso parte insieme ai suoi genitori, avrebbe spifferato tutto gridando allegramente, mamma è incinta Gossip e voci di corridoio verità? Certo è che Kate e William hanno sempre affermato di voler allargare ancora la famiglia e che ogni figlio è per loro una benedizione Nonostante, non ci siano ancora conferme da Buckingham Palace, la duchessa di Cambridge ha fatto però un gesto che non lascia più adito a dubbi La moglie del principe William è stata beccata ad accarezzarsi il pancino, mostra una rivista tedesca, in modo dolce e materno La sua mano che tocca il ventre come a voler coccolare la quarta gioia della sua vita, ha emozionato il mondo I sudditi sarebbero davvero al settimo cielo se la notizia dovesse essere confermata Una piccola Lady Diana a corte sarebbe una gioia immensa per tutti I sudditi sarebbe un'ughterselle bene via Palitano Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente.